bentornati bentornati sul sul canale dunque primi verdetti primi verdetti importanti in chiave champions league per quanto riguarda il campionato di calcio di serie a perché in virtù del pareggio tra i us l'interno ma soprattutto la vittoria dell'atalanta sulla roma matematicamente juventus e bologna accedono alla prossima champions league e questo è un risultato clamoroso per quanto riguarda il bologna che attualmente pari punti con la juve ma attualmente per quanto riguarda la differenza grazie alla differenza lì è terzo quindi la juventus con il pareggio veramente orripilante contro la serenitana ultimissima in classifica ha guantato solo al minuto 91 su calcio d'angolo il mischione a quale ormai siamo abituati riesce a raccogliere un punto dopo aver creato sì diverse occasioni ma ne parleremo e scende addirittura al quarto posto prossima settimana c'è proprio bologna juventus purtroppo mancherà purtroppo per bologna mancherà zircze problema a livello muscolare si teme anche per un eventuale europeo visto che non è tra i convocati a livello non è sicuro tra i convocati ma dopo il campionato forse lo sarebbe meritato vediamo insomma l'esito degli esami e i risultati specifici quindi la classifica recita inter 92 punti altro campionato più 67 differenza reti ma che ve lo dico a fare poi milan 74 matematicamente al secondo posto dunque per la banda pioli bologna terzo a 67 punti gli stessi e la juve in attesa dello scontro diretto a questo punto vale solo per il terzo o quarto posto attenzione all'atalanta perché l'atalanta batte la roma sale a 63 a meno 4 dalla coppia bologna juve ma ha la partita famosa a recuperare al campionato terminato dopo addirittura la finale di champions league contro la fiorentina quindi potenzialmente a 66 punti a un solo punto dalla coppia bologna juve e c'è rischio a questo punto concreto che la juve termini il campionato al quinto posto potrebbe terminare al quinto posto e insomma non nel massimo per quanto riguarda i bianconeri che hanno fatto un secondo un secondo un girone di ritorno da zona retrocessione due vittorie quella con quelle con fiorentina e e e frosinone ci ricordiamo tutti come arrivate e poi una serie di pareggi e sconfitte insomma veramente impressionante cammela juventus la roma poi staccata ormai di di tre punti all'atalanta che ha però una partita in meno la roma restano tre partite e per il quinto posto presente se la giocano quinto posto tra virgolette perché poi magari l'atalanta supera appunto come detto bologna juve se la giocano eh atalanta roma e lazio che con la vittoria di oggi è rientrata anche se è a un punto dalla roma a quattro all'atalanta ma vi ricordo che la lazio e roma hanno una partita in più rispetto all'atalanta che recupererà quella fiorentina presumibilmente a giochi già già fatti eh sull'atalanta eh sembra esaurito sembra sembra si sia esaurito il il la cura diciamo così la cura l'inerzia l'inerzia dei rossi eh una roma forse la peggiore forse la peggiore di quando dei rossi è è salita al comando atalanta debordante certi versi ricordava l'inter d'inzaghi quella che creava tantissimo non segnava mai a livello di palle gol forse saremmo 20 a 2 e finisce 2 a 1 quasi fosse un glitch quasi fosse un bug perché veramente si spiega difficilmente il 2 a 1 addirittura poi la roma magari sai calcio è strano poteva pure pareggiarla eh ma non ha questo non avrebbe cambiato di un centimetro proprio il il giudizio mh genere generale sulla sull'andamento del match perché è stato veramente un un confronto a darmi eh totalmente impari totalmente impari e per il resto buonissimo l'apporto di scamacca eh esiziale di Ketelar che io ce lo verrei bene devo dire nel 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 in una in una rotazione nell'attacco dell'inter ce lo verrei bene poi io riflettevo ma tutti quanti si lamentano del eh ma l'inter però quattro cinque attaccanti da giostrare poi vedi l'Atalanta che nel secondo tempo ha messo dentro Mirancuc eh eh Lukman eh e e e I titolari giocavano eh scamacca eh De Ketelar insomma eh eh bè tutte queste panchina in difesa abbiamo Toloi e Scalvini cioè quando poi tu hai hai voglia di fare rosa lunga l'Inter, l'Inter, ma perché le altre che c'hanno la rosa curta nella Roma si è entrati Asmun e Ebram mancava Di Bala questa rosa sterminata dall'Inter rispetto alle altre francamente io non non è che la vedo tanto nella Juve si è entrati Hildiz che doveva essere il nuovo Maradona poi è sparito e Chiesa e Milik io francamente andando alla Juve la Juve veramente dicevo oscena Juve, Juve oscena, non so se avete visto la partita ragazzi, ma è stata veramente una Juve oscena e e se andiamo a ripercorrere il giorno di ritorno della Juventus troviamo se la memoria non mi inganna la prima giornata di ritorno dovrebbe essere Juventus Sassuolo 3 a 0 perché in effetti prima c'era e si c'era salita la Juve che era l'ultima andata quindi ha vinto con la Sassuolo e poi ha vinto con l'Ecce dopodiché nelle ultime giornate quindi non nelle ultime nelle ultime partite nelle ultime 15 mi sembra e si nelle ultime 15 ha fatto solo due vittorie ha fatto il pari casalingo con l'Empoli che praticamente ha distrutto qualsiasi sonno di gloria eventuale poi ha perso con l'Inter ha perso con l'Udinese ha pareggiato con il Verona ha vinto con il Frosinone una ha perso con il Napoli ha pareggiato con l'Atalanta ha pareggiato con il Genoa ha perso con la Lazio ha vinto con la Fiorentina siamo a due poi pareggio col Torino pareggio col Cagliari pare sconfitta al ritorno peraltro con la Lazio ma vabbè pareggio col Milano pareggio con la Roma pareggio con la Salernitana io veramente un cammino del genere rispetto a una squadra che si stava per giocare lo scudetto altro che crisi di spalletti di spalletti d'inverno una crisi senza fondo ovviamente poi non è solo questione di risultati ecco perché se se ne fa solo una questione di risultati anche oggi tu vedi il tabellino Atalanta-Roma 2 a 1 oggi la Juve ha preso due legni due tre legni non ricordo sicuramente due non ricordo c'è stato pure un terzo o comunque c'è andato vicino ma stiamo parlando sì sulle occasioni è chiaro che ne ha prodotte di più ma più per inerzia più per nervi più di così di buttiamo e vediamo che succede confusione come poi è arrivato il gol non so in misi ma di idee di gioco contro una squadra retrocessa a due mesi contro una squadra che è due mesi che è in serie B alla quale mancavano anche diversi giocatori importanti due tra tutti D.A. in attacco penso l'ultima partita ha fatto D.A. contro l'Inter e Candreva già giusto per dirne due ma ce ne mancavano tantissimi pure una squadra dignitosa e la Juventus è andata oltre il pari adesso ha festeggiato dal divano la Champions League io non so quanto ci sia da festeggiare perché qua altro che manca qualche tassello qua manca tutto il manico perché è evidente e poi secondo me tanti giocatori che invece erano arrivati con un livello differente adesso si sono ampiamente svalutati a livello dell'opinione pubblica ma anche dentro loro devono ritrovare veramente le convinzioni e non è facile poi dal giorno alla notte ritrovare carica motivazioni poi ho visto nervosismo insomma nulla di particolarmente nuovo non è che ci siamo svegliati ah questa è la Juve che c'è una discrepanza tra la potenzialità di questa squadra e quello che fa vedere perché magari non era la Juve tritata carne del giorno d'andata ma non può essere nemmeno questo e ripeto l'allenatore lo staff tecnico la gestione alla quale si riferiva Paolo Maldini l'altro giorno fa la differenza adesso gente come Rabiot Danilo Bremer Vlaovic Milik Chiesa eccetera eccetera sono diventati dei perfetti rincoglioniti lo stesso Kostic ma datela a Inzaghi Kostic Kostic che adesso sembra un ex giocatore voi datela a Inzaghi su quella fascia sinistra datela a Inzaghi voi Kostic però questo è quanto quindi adesso ormai ci aspetta solo di di capire quale sarà la quinta squadra che si unirà a Inter Milano Juve Bologna per la prossima Champions League è chiaro che è manna totale dal cielo per la Juve questo quinto posto che mette in sicurezza una qualificazione Champions che altrimenti a questo punto sarebbe stata molto ma molto in dubbio considerando lo scontro diretto a Bologna e il finale di campionato in crescendo e come dell'Atalanta peraltro mercoledì ci sarà la finale di Coppa Italia tra Juve e Atalanta con Scamacca squalificato però mancherà un grande protagonista un grande peccato ma l'Atalanta ha gli uomini per sopperire soprattutto ha le idee di gioco per sopperire cosa che dall'altra parte manca totalmente un saluto per sopperire per sopperire